can't get you out of my oh oh guarda c'è una cassa ma l'avevo aperta io quella cassa e lo so che è viva lo vedo anche uccidete le gambe ok sposta vabbè ahhh io qui so dov'è una terra ecco da te è mezzo morto che con l'hai ucciso quello io non ho visto nessuno eh vabbè ma tu te droghi eh guarda questo che cazzo è un amico tuo guarda noi ok oh sotto di noi aiuta sono l'unice di vita stiamo ricurando iure occhio granate è finita iure provaci provaci no niente non è vero non lo so non lo so mi piace questa situazione sapete arriva mi piace questa situazione mi piace così tanto che me ne vado vai Mirko anche se qua no ma regà sono morto sono morto non è che posso fare niente raga io non v'ho pulito a supporto in quel fight mi dispiace ancora ma cioè ma uno adesso se da quella montagna lì mi guarda muoio sto lutando eh guarda se c'avevo un po' di vita gli avevo sparato giù sono altre persone si lo so lo so pende dove siete pende ah sai che faccio faccio tipo come gli uccellini vado dietro appena lasciano una mollica di pane me la prendo voglio vedere lì dentro che c'è sono curioso no guarda no ma qua dentro no no ragazzi gli uccellini ragazzi gli uccellini te l'ho detto io pio pio sono un uccellino pio 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 è stato detto e faccio come gli uccellini allora per assurdo meglio la vita ora poca poca cioè no è uno non lo so perché fa stealth e stealth no però uno te lo porti via si stupendo oh io zitto 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 e se mi vede sono morto guarda che plebeo guarda che plebeo stupendo no orecchio e si portò anche quello aaaah zitti sono un uccellino cavolo è un pericolo pubblico questo uccello esatto faccio pio pio non mi vedete non mi stanno vedendo vero ragazzi non lo so allora faccio cosi 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 pio 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 sono un uccellino pio 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 tebia schiaffi capito no no uccidi quelli sopra il tetto ti ha visto sono un uccellino lasciami perdere pio 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 c'è un problema di ingegneria qui lo sa vai via vai via l'ho detto e ti giravano attorno vai salta si sono libero pio 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 vedi che aspetta questo è un amico per fare che questo si è un amico mio lasciatelo perde noi ciao amico no non lo so però mi sembra un ragazzo sa gioca no 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 ai rompiamo tutto se lo capirà che siamo amici si vieni qua biondo giure ti presento anna lui anna ma oh anna però sei troppo esagerato io te lo dico comunque quella era anna jure mo tu sei un maleducato di merda e questo c'è da dirlo scudo e la tua amica anna mi ha tolto lo scudo ho capito ma tu gli hai detto di non colpirti però a me stava simpatica anna per favore mi fate un meme con scritto rip anna raga c'è l'amico di quella di anna questo è mario 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 ciao mario a mi spara mario ragazzi mario incazzato ce sarà incazzato anch'io se venite da me mario mario aia mario ma no ragazzi ma io volevo parlare a mario ma nooo ma ih Christmas ma no non ci usualmente le fio mi fio mi face fermi 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 Cazzo! Sì! Sì! Cazzo! Ah si va da un safe Non so che sono morto Ah era proprio ora Però vi dico da qui a lì Tutto tranquillo ragazzi Confermo io Che figura di merda Ciao 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 Ciao